Per quanto riguarda il tema dei consumatori, sicuramente si può, qui viviamo una contraddizione, da una parte, da un punto di vista normativo europeo, sicuramente la tutela dei consumatori può arrivare ad essere eccessiva. Nella pratica, devo dire, poi lo dirà meglio di me probabilmente chi interverrà successivamente come associazione dei consumatori. Nella pratica, poi, non è così automatico che quando ciascuno di noi ha aerei cancellati o aerei in ritardo di più di due o tre ore, si rivolge immediatamente al nuovo biglietto o rimborso o assistenza particolare. Per cui, sicuramente, noi abbiamo un sistema di protezione normativa che forse è eccessivo, da una parte, e dall'altra parte è un'operatività che non va proprio nella stessa direzione. Sicuramente, come è stato ricordato in uno degli interventi che mi ha preceduto, il tema della informazione al passeggero è un tema altamente carente nel sistema dei trasporti, siano essi ferroviari che passeggeri, perché penso che succeda a ciascuno di noi che si trova in presenza di un ritardo o di una cancellazione, ed è impossibile per un passeggero conoscere le vere cause del ritardo. Spesso, solo io da privilegiato a posteriori capisco le cause del ritardo, ma altrimenti è di fatto un privilegio che nessun, diciamo, utente possa avere. E spesso non ci sono cause per cui bisogna tenere segrete queste informazioni al passeggero. Bisognerebbe avere il coraggio di dire tranquillamente le cose. Io, l'ultima volta che mi è capitata a Catania, volo per Verona, ritardo di due ore e dieci, mi sono informato, poi io mi informo, diciamo, amministratore delegato, presidente delle società aeroportuali, quindi sono, diciamo, un utente privilegiato, ma probabilmente non sono ancora arrivati i piloti e coloro che eserciscono l'aereo, perché la macchina è a terra, per cui. Arrivato a Verona, ho scoperto il motivo, l'aeroporto di Verona faceva degli scioperi, diciamo, a Catania. Bastava che a Catania si comunicasse questa cosa, peraltro, essendo a Catania, gli utenti non potevano neanche prendersi a più di tanto con, diciamo, la società di gestione aeroportuale e gli altri soggetti dell'aeroporto di Verona che avevano in quel giorno dedicato una serie di... per cui poi ci siamo trovati che fino a mezzanotte c'era uno sciopero che impediva gli aerei di atterrare. Dopo la mezzanotte c'era lo sciopero di coloro che fanno le attività a terra, per cui col comandante, dopo 45 minuti, lui davanti, con la polizia che diceva che non si poteva fare, siamo scesi, diciamo, e a piedi 150 passeggeri hanno attraversato quei poche decine di metri che mancavano per raggiungere, diciamo, la piattaforma aeroportuale senza aspettare il pullman, che ce n'erano solo due in servizio, erano arrivati 12 voli contemporaneamente, quindi immaginatevi quanto tempo dovesse passare per. Quindi la formazione è un altro tema fondamentale. E l'ultima cosa, un impegno, perché voglio essere corretto con i tempi che il moderatore mi ha accordato, la mia commissione, visto che ha fatto questo lavoro, non è che ha fatto questo lavoro solo in termini, diciamo, giornalistici e informativi, ma l'ha fatto anche per poi svolgere la propria attività da legislatore, attenderà a settembre le conclusioni anche da parte del governo, che dovrebbe portare a conoscenza gli esiti di un lavoro approfondito fatto, anche questo di ricognizione del sistema aeroportuale, per convogliare tutte le risorse che sono pochissime, sappiamo, il sistema può avere, peraltro rimane ancora bloccato, il sistema di aumento tariffario per investire in migliorie nei maggiori aeroporti italiani, e questo, diciamo, è uno dei temi di maggior rilevanza che la nostra indagine aveva sottolineato, il nostro sistema aeroportuale è un buon sistema aeroportuale, abbiamo soprattutto carenza nello sviluppo dei 5 o 6 maggiori aeroporti italiani, che mentre gli altri aeroporti europei stanno facendo investimenti miliardari per aumentare il numero dei piste su questi grandi aeroporti, in Italia siamo abbastanza fermi e quindi la famosa legge approvata nell'agosto dell'anno scorso purtroppo non ha ancora avuto, diciamo, i vari regolamenti di attuazione per far sì che si possa procedere celermente a questi piani di investimento che riguardano soprattutto gli aeroporti principali, ma che coinvolgono evidentemente miliardi di investimenti che anche in questi periodi di difficoltà economiche e finanziarie sicuramente aiuterebbero al rilancio dell'economia del nostro Paese. Quindi, dicevo, da settembre è terminato anche, e questo avverrà tra pochi giorni, i lavori sulla sicurezza stradale, il legislatore alla Camera lavorerà su una proposta di legge che riguarderà il trasporto aereo, sia passeggeri che merci, a iniziare da quelle cose che hanno stati individuato, quindi semplificare la normativa relativa ai servizi anti-incendo e al rifornimento degli aerei. Penso che allora avremmo lasciato il tempo disponibile alle parti per trovare un accordo, perché anche queste che sembrano banalità non lo sono, nel senso che comunque il nostro è l'unico Paese che prevede la presenza dei vigili del fuoco mentre fa rifornimento un aereo a terra, quindi sarebbe da equiparare questa norma agli altri Paesi europei, ma anche qui ci sono dei lavoratori che svolgono questo tipo di attività e non è così immediato la possibilità di rimuovere e semplificare questa norma, perché ci scontriamo sempre comunque rispetto a una nuova ridefinizione dei programmi di lavoro all'interno del sistema aeroportuale. E così via anche gli altri temi che ho prima citato, che dovranno far parte di un provvedimento legislativo che andrà a cercare di dare un contributo migliorativo a sistemi di trasporto aereo italiano. Grazie. Volevo dire una cosa prima di lasciare di nuovo la parola a Dragoni. Veramente voglio ringraziare i relatori di essersi attenuti rigidamente ai tempi a loro allocati, perché questo ci consente di essere non solo in orario ma in realtà in anticipo, cosa che per i frequentatori professionisti di convegni come io e Vito Riggio è una grande realità e credo che lui lo possa testimoniare. Un buon auspicio visto il tema di cui stiamo parlando. Prima di affrontare la seconda sessione, che poi non c'è interruzione, quindi si sta preparando il dottor Alessio Quaranta, direttore generale dell'ENA, la professoressa Rabitti per una replica. Anzi, volevo fare un intervento solo a sostegno di quanto ho sentito, nel senso che a Mario Varducci vorrei dire che l'Italia però rischia una procedura di infrazione se non individua l'autorità competente per quello che riguarda la materia di cui ci occupiamo noi, rispetto alla trasparenza, completezza delle informazioni relative alle tarifere, che peraltro è quello che in assenza di questa scelta già stiamo facendo. Do atto al Presidente Vito Riggio che la collaborazione con ENAC è sempre fortissima e a conferma di questo il dottor Pezzoli ieri mi ha dato notizia di una recente sentenza del Consiglio di Stato che, modificando la precedente decisione d'Oltar, dà pienamente ragione all'approccio privilegiato dall'autorità nelle due decisioni che riguardavano le tariffe relative alle infrastrutture centralizzate degli aeroporti gestiti da SEA e da ADR e qui si trattava di prezzi ingiustificatamente gravosi per cui poi sono fatti specie al confine tra antitrust, regolazione e tutela del consumatore, qui abbiamo il nostro Direttore Berti, dove l'intervento dell'autorità è riuscito perché essa ha potuto avvalersi della felice collaborazione dell'ENAC e che sulla contabilità regolatoria si è appoggiato per individuare il benchmark concorrenziale necessario per la valutazione dell'eccessiva gravosità delle tariffe. Insomma, vorrei confermare quello che riteniamo essere la nostra naturale vocazione alla informazione sulle tariffe, sui rapporti che devono intercorrere fra i vettori e i consumatori, ma voglio dire che nelle more non siamo inerti noi e l'ENAC dà sempre un prezioso contributo informativo per quanto riguarda le nostre pratiche. Grazie.